Cari amici normoragionanti, sono Reduce da due splendide conferenze a Lucca e a Genova, piene di persone, sala piena, tutti ospiti colti, preparati, interessati, anche chi ha avuto da opporre alcuni o piersini l'ha fatto in modo intelligente e credo di aver risposto con loro soddisfazione. Oggi sono per darvi una vera chicca, tipica dell'effetto Ratzinger. Sapete di che cosa sto parlando? Di quel particolarissimo ed esilarante fenomeno per cui i nemici di Papa Benedetto, cioè i legittimisti di Bergoglio, che siano un'acum o smaccatamente bergogliani, svelano involontariamente prove, dettagli e informazioni che gridano la verità sull'antipapato in corso. Ora voi sapete che Papa Benedetto si è sempre servito dai giornalisti per far filtrare all'esterno i suoi dirompenti messaggi in codice Ratzinger. Uno su tutti, Massimo Franco, che ci ha regalato quel «Il Papa è uno solo, non ci sono due papi» da cui ha preso le mosse la mia inchiesta. Per non parlare di Andrea Tornielli, il quale praticamente mi dà del ciarlatano, «Anzi, se è riuscito a trovare il filmato, disse una cosa del genere durante una trasmissione pomeridiana, probabilmente dopo la morte di Papa Benedetto, mi fareste un favore. Nel caso scrivetemi a codice Ratzinger-libero.it». Insomma, Andrea Tornielli chiese nel 2016 al Papa Benedetto perché avesse mantenuto il nome pontificale e la veste bianca e lui, come sapete, rispose «Beh, era la cosa più pratica perché al momento della rinuncia non c'erano a disposizione altri vestiti e quindi vi lascio immaginare, no? Vi pare che Papa Benedetto in tre anni non era riuscito a trovare una talare nera filettata di rosso o di porpora? Beh, ma oggi l'effetto Ratzinger meraviglioso tocca ad Aldo Maria Valle che, come sapete, purtroppo fa parte dello schieramento Unacum. Lui non si capacita del perché sui social viene massacrato dagli utenti e, ma, caro Aldo, il problema è che tu stai conducendo la battaglia sbagliata perché stai legittimando Bergoglio mentre stai disconoscendo quello che ha fatto Papa Benedetto e che è stato dimostrato da latinisti, storici della Chiesa, canonisti, giuristi, eccetera, eccetera. Allora, ringrazio la lettrice Benedetta che mi ha fatto conoscere qualcosa che mi era sfuggito cioè il 2 gennaio scorso, a tre giorni dalla morte del Santo Padre Aldo Maria Valle pubblica una lettera che lui aveva ricevuto nel 2013 questa lettera era esattamente di dieci anni fa il 17 settembre 2013, giorno di San Roberto Bellarmino e, come sapete, il cardinale teologo che parla dell'automatico decadimento di un Papa eretico Benedetto XVI scrisse a Valli una cortese lettera in merito al suo libro che è stato pubblicato nel marzo 2013 intitolato Benedetto XVI, il pontificato interrotto per i tipi di mondadori ed ecco il virgolettato del Santo Padre Caro signor Valli, grazie di cuore per il suo grande libro Benedetto XVI, il pontificato interrotto un viaggio negli anni del mio pontificato che permette al lettore di vedere la somma del mio lavoro come pontifico in questa occasione vorrei dire grazie per tutto il suo lavoro in questo periodo e per il suo impegno di far arrivare il messaggio del Vangelo ai nostri contemporanei sia sicuro del mio ricordo nella preghiera suo nel Signore Benedetto XVI ecco, io vi suggerisco di premere il tasto pausa di questo video e di riflettere da soli su queste righe provate da soli a capire cos'è il codice Ratzinger che è contenuto in queste righe bene, se avete deciso di continuare perché magari non ci siete arrivati il senso logico dello scritto è sottile ma assolutamente univoco e Aldo Maria Valli non se ne è mai accorto tanto che candidamente l'ha reso pubblico e noi di questo lo ringraziamo perché è l'ennesima prova che si va ad ammonticchiare sul cumulo di plateali dimostrazioni della sede impedita di Papa Benedetto ecco, come è evidente, Papa Benedetto pur facendo un riferimento temporale al viaggio di Valli negli anni del suo pontificato cioè dal 2005 al 2013 perché le dimissioni sono del 2013 Benedetto scrive nel settembre 2013 quindi il lasso di tempo è questo però ringrazia Valli per aver presentato al lettore solo la somma del suo lavoro del suo lavoro, cioè del suo fare il Papa ovvero del suo ministero ovvero ciò che si è interrotto per Papa Benedetto e solo il suo lavoro causa sede impedita e non si è interrotto il suo pontificato che nel 2013 sta proseguendo sebbene da Papa impedito altrimenti Papa Ratzinger se fosse stato applicatario avrebbe scritto Caro Valli, grazie per aver presentato la somma del mio pontificato che, come lei giustamente titola, si è interrotto e invece no, lui lo corregge specifica grazie perché lei ha presentato al lettore solo il mio lavoro solo la completezza del mio lavoro che si è interrotto il 28 febbraio del 2013 e lei lo ha ben illustrato un dato storico che voi potete verificare con un click è che il pontificato di un Papa dura anche se questo è impossibilitato a governare andate su Wikipedia cercate la voce Pio VI il quale, esiliato e deportato da Napoleone nel 1798 concluse il suo pontificato con la morte in prigionia avvenuta il 29 agosto del 1799 e infatti solo dopo la sua morte venne convocato il conclave che avrebbe eletto il successore Pio VII il 21 marzo del 1800 se Pio VII fosse stato eletto da un conclave mentre Pio VI era esiliato e deportato ma vivo e non abdicatario Pio VII sarebbe stato un antipapa ovviamente perché il conclave sarebbe stato il decimo ma attenzione, attenzione perché c'è anche un riferimento allusivo questo più leggero ma ancora più ficcante ancora più preciso vi rileggo la seconda frase in questa occasione vorrei dire grazie per tutto il suo lavoro in questo periodo e per il suo impegno di far arrivare il messaggio del Vangelo ai nostri contemporanei ecco lui aveva parlato della somma del suo lavoro e poi ringrazia Valli per il suo lavoro perché questa ripetizione è un po' fastidiosa perché il lavoro che Valli sta proseguendo è quello di far arrivare il messaggio del Vangelo cioè proprio quell'annunciare il Vangelo che era parte del lavoro cioè del ministerium del Papa al quale Benedetto come specificò nella stessa declaratio aveva annunciato virgolette per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo è necessario sia il vigore del corpo dell'animo che vigore che negli ultimi mesi in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato come a dire grazie Valli perché lei prosegue quel mio lavoro che non posso più esercitare cioè annunciare il Vangelo ecco poi siccome penseranno che è cionci che si fa i film da soli no? perché pur essendo laureato in lettere pur avendo scritto saggi, romanzi, libri inchiesta però l'italiano per lui è opinabile allora ho chiesto al professor Gian Matteo Corrias latinista saggista storico religioso che mi ha dato questa expertise per così dire virgolette nella breve nota indirizzata da Benedetto XVI ad Aldo Maria Valli il pontefice afferma con formulazione sottile ma univoca che il libro del giornalista verte sul suo lavoro come pontefice sull'esercizio delle funzioni legate al ministero pontificio cioè al monus pontificio non già sul suo pontificato in quanto tale con curiosa specularità segnalata stilisticamente dalla ripetizione del sostantivo lavoro altrimenti sgradevole ed evitabilissima in un testo breve e controllabile come questo ciò per cui Ratzinger ringrazia Valli è specificato nel senso dell'annuncio del Vangelo proprio ciò in cui principamente consiste il ministero Petrino il ministerium Petrino assieme al governare la barca di San Pietro secondo le esplicite e note ormai affermazioni del pontefice della declarazione ci troviamo davanti a un piccolo caleidoscopio logico sintattico attraverso il quale Benedetto XVI sembra riportare l'attenzione da un lato sull'oggetto della sua rinuncia cioè il lavoro dall'altro sulla auspicabile solidarietà del ministerium cui egli ha rinunciato con quello di Valli che lo osserva con gli strumenti del metodo critico all'insegna dell'annuncio del Vangelo ecco come vedete Aldo Maria Valli ci ha regalato dopo dieci anni questo codice Ratzinger che era rimasto sepolcro nel suo cassetto e noi di questo lo ringraziamo naturalmente a lui non basterà questa cosa non gli basterebbe nemmeno se ci fossero fotografie di Papa Benedetto che sventola un lenzuolo dal monastero mater ecclesico scritto io sono impedito non gli è bastato quando lui dice se non credete la risposta nel libro di Geremia che parla di un profeta impedito quindi su Valli non abbiamo alcuna speranza ma il documento che lui ha prodotto è utile per noi è utile per le persone che hanno orecchie per intendo chissà quante altre lettere inviate da Papa Benedetto rimangono ancora nei cassetti di intellettuali giornalisti speriamo che le tirino fuori il vero Papa continua a parlarci e la verità si sta affermando in modo inesorabile bene cari amici io vi aspetto adesso il 23 a Roma al Casale San Nicola e poi sarò ad Ancona il 14 ottobre vi ringrazio per aver sostenuto l'attività tecnica di questo canale e vi rimando al prossimo podcast di questo canale